bentornati sul mio canale questo video cercato di girarlo almeno tre volte perché non non mi riesce sto video di girarlo mi arrivano dei pop di notifiche roba varia oggi guarderemo un video atroce un video brutale un video schifoso e ve lo mostrerò fino alla fine ve lo voglio mostrare perché voglio sensibilizzare sul tema della violenza e della crudeltà sugli animali ci guardiamo questo video e poi vi dico ancora un paio di cose mi raccomando guardatelo lo stesso anche se crudo guardatelo fino alla fine perché è importante che questo video sia visto fino alla fine andiamo come here come here nothing's gonna happen nothing's gonna happen get in there that's it get in there assurdo that's it that's it ok let's see let's try 30 seconds and we'll see what happens incredibile what the fuck guardate oh my god logicamente vi ho trollati ok non vi farei mai vedere un video del genere soprattutto sul canale ok ma neanche da nessun'altra parte neanche su telegram fanno schifo queste cose dovreste saperlo però ve l'ho voluto far vedere perché questo è un video molto importante a parte vabbè questa questa vabbè questa è una battuta ma inteso vedete cosa c'è scritto qua se vedete un animale qualcuno che fa del male a un animale per favore contattate la polizia perché è la verità cioè io non parlo adesso di una battuta di caccia di un di una cosa nella norma dove un cinghiale viene abbattuto magari per essere cucinato magari perché sono troppi eccetera eccetera sto parlando di della crudeltà gratuita sugli animali se vi capita di sapere su internet vedete un video di crudeltà sugli animali segnalatelo se vedete qualcuno che fa del male a un animale chiamate il 112, il 911, la polizia, i carabinieri chiamate le forze dell'ordine subito perché comunque è un reato e in senso cioè ho voluto portare questa reaction a questo video perché c'è stato un periodo in cui questi video di violenza sugli animali su youtube erano frequenti e attualmente su telegram ce ne sono ancora tanti tanta gente ha ancora questa disgustosa mania questa disgustosa perversione questa disgustosa depravazione va combattuta fermata non credo che ci riusciremo mai ma va comunque combattuta e va comunque denunciata arrivederci ragazzi GG's aspettiamo ancora una decina di secondi e chiudiamo il video ciao